Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Provatissima Federica Panicucci, a cui è toccato il triste compito, questa mattina, di annunciare l'orribile notizia in diretta tv nel corso del morning show da lei condotto, insieme al giornalista Francesco Vecchi. Molto emozionata e turbata la conduttrice toscana, che ha pronunciato, con non poche difficoltà, queste parole. Un abbraccio forte forte a Paolo Brosio, perché questa mattina è mancata la sua mamma. Davvero un abbraccio a lui e salutiamo la signora Anna, che è mancata questa mattina a 102 anni. A questo punto la conduttrice Mediaset ha preferito interrompersi. Con la voce tremante, la Panicucci ha interpellato Don Patrizio. Religioso in quel momento in collegamento con lo studio di mattino 5. Don Patrizio, amico di Paolo Brosio, ha dichiarato. Ho sentito Paolo ieri, mi ha chiesto una celebrazione, mi ha chiesto e soprattutto delle preghiere.